non so se lo sapevate ma oggi è la giornata mondiale del tutto maiuscolo ovvero la giornata mondiale del caps lock io ne voglio approfittare per fare un titolo tutto caps lock perchè a quanto pare ci sono dei problemi su youtube anche se usi troppo caps lock però oggi è la giornata mondiale del caps lock quindi io mi permetto di fare un titolo tutto in maiuscolo è in barba i problemi che mi creerà youtube perchè pare che ci siano problemi anche sul caps lock in youtube praticamente ti devi addossare la responsabilità di quello che scrivi in maiuscolo in una nota ufficiale mi è arrivato questo per dire quanto youtube sia patetico ormai cioè non ha più un senso quell'algoritmo è svalvolato è come l'hard drone, l'hard coller cioè sono due macchinari svalvolati che costano miliardi di euro che valgono miliardi di euro ma sono macchinari svalvolati e quindi niente questa è la giornata mondiale del caps lock mi tirano giù video per un pezzetto di droga quando ci sono interi documentari sulla droga di altri canali ci sono ammazzamenti, castrazioni e tutto il resto ma non ne parliamo in questo video perchè appunto questa è la giornata mondiale del caps lock selv殺mo la notanza è tuttaosina la giornata mondiale slack augura posizion sistema l'amon